Grazie. Dunque, Laura Nai parla Giuseppe Tommasi di Lampedusa e la poetica dei ricordi di luce. Grazie mille per questa presentazione e grazie per l'invito a parlare di Giuseppe Tommasi di Lampedusa. È la metà di giugno dell'anno 1955 quando Tommasi di Lampedusa interrompe la stesura del cattopardo di cui ha completato la prima parte e mette mano ai ricordi di infanzia. Non si tratta, come noto, di un'interruzione troppo lunga ma sufficiente per chiedersi cosa mai lo avesse indotto ad agire in tal senso. Forse una prima spiegazione si può trovare prendendo le mosse dei titoli che sono stati dati a queste pagine. Quello scelto da Lissi, innanzitutto, luoghi della mia prima infanzia, titolo che contribuisce a far cadere l'accento sugli spazi fisici, quegli elementi fondamentali della poetica di Tommasi e che aiuta a circoscrivere un lasso di tempo ben perimetrato. È quello che appare in basso a destra sulla copertina del blocco per appunti di medio formato a quadretti piccoli, descrittoci da Gioacchino Lanza, ricordi di infanzia, titolo che sposta l'attenzione sui ricordi e sulla funzione memoriale, dilatando l'intervallo di anni in oggetto. Partendo da qui possiamo iniziare col definire tre elementi costitutivi di questi appunti, i ricordi, i luoghi e l'infanzia. Ancora Lanza poi ci informa che il manoscritto dei ricordi di infanzia rivela un ordine di stesura differente da quello che noi oggi leggiamo nell'edizione a cura di Nicoletta Polo. Introduzione, i ricordi, infanzia, infanzi, luoghi e le altre case, sorte di queste case, suddiviso poi in viaggio, la casa e torretta. In particolare, e su questo vorresso fermarmi, la parte intitolata i ricordi è scritta prima dell'introduzione, quasi a suggerire come la stesura di questi foglietti nasca in prima battuta dall'impulso a fermare sulla pagina momenti che appartengono al privato dello scrittore e come solo ad un secondo tempo può essere scritta l'esigenza di ancorare questi ricordi e riflessioni che appartengono all'oggi, agli anni della maturità e filtrate attraverso la letteratura. Tutto questo naturalmente non inficia quanto Bassani ha scritto nel 61 introducendo i ricordi, laddove ipotizza che queste pagine non fossero destinate alla pubblicazione, ma, certo, attesta come su di esse Tomasi abbia lavorato da scrittore. Aggiungo ulteriore prova che non solo questa inversione lo suggerisce, tanto più che non è l'unica, anche c'è un'altra inversione che antepone il viaggio alla parte su Santa Margherita, ma lo suggeriscono pure le frequenti biffature che costellano il manoscritto e come vedremo ci raccontano molto di quello che lo scrittore aveva in animo di fare. Quando dunque Tomasi riordina i suoi appunti, decide di iniziare con l'introduzione per chiarire al lettore, lettore che non ci sarà, come si affretta a sottolineare gli stesso, alimentando da un lato la consuetta querelle relativa alla volontà dell'autobiografo di pubblicare i suoi scritti, o meno, e dall'altro smarcandosi fin da subito da Stendhal, che Tomasi considera maestro nel far coincidere autore, personaggio e lettore. In quell'introduzione quindi specifica in quale periodo è iniziata la stesura dei ricordi, metà giugno del 55, e quale sia stata l'opera che gli ha ispirati, la vita di Henri Brouillard di Stendhal per l'appunto. Non si tratta in realtà di una lettura ma di una rilettura, dopo quella del 22, quando però Tomasi era troppo giovane per poter comprendere il valore del romanzo di Stendhal. Adesso, a più di 30 anni di distanza, giunto a sua volta come l'autore del Brouillard alla maturità, Tomasi scorge nelle pagine autobiografie di Stendhal qualcosa che gli appartiene profondamente, ovvero la ricerca interiore li condotta, e l'essere questo romanzo un'opera concepita per consentire a chi scrive, sono parole di Mario Lavaggetto, l'esplorazione fin dalla nascita del proprio io, per cercare di arrivare a delineare un ritratto di se stesso. La vita di Henri Brouillard appare dunque al Tomasi autobiografo di oggi un capolavoro che ha preso corpo sulla pagina scritta grazie alle indiscusse doti narrative di Stendhal, come si legge sempre nell'introduzione. Immediatezza di sensazioni, evidente sincerità, ammirevole sforzo per spallar via gli strati successivi dei ricordi e giungere al fondo, lucidità di stile a masso di impressioni. Come noto, non è questa la prima volta che Tomasi si occupa dello scrittore francese, penso naturalmente alle lezioni su Stendhal stese nel gennaio del 55, quindi pochi mesi prima dei ricordi. Anche là egli aveva parlato della sincerità definita assoluta allora e che non può più essere tale quando Tomasi, spogliatosi dall'abito del critico per carzare quello dell'autobiografo, si trova, cito, a promettere di non dire nulla che sia falso, senza però voler dire tutto e sottolinea la parola tutto, concludendo con una frase che fa tornare alla mente Rousseau, riserva a me il diritto di mentire per omissione. Ma non è solo la sincerità che Tomasi richiama nella lettura critica del Nervo Eulard. Vi sono anche il poetico ritmo interiore scaturito dall'alternarsi fra la tristezza dell'uomo cinquantenne, 52 anni aveva Stendhal, 59 ne ha Tomasi, e la non curanza infantile. Il fatto, rappresentato sulla pagina scritta come sensazione, è l'aura di sogno interrotta dalla diffidenza dell'uomo anziano. Se poi scorriamo rapidamente le lezioni, possiamo cogliere accanto a questi altri aspetti della scrittura del francese che Tomasi fa propri e adatta alle finalità autobiografiche che ora sta perseguendo, a partire proprio da quel fatto sensazione testemenzionato, che nei ricordi di infanzia si fa immediatezza di sensazioni e si traduce nell'imperativo di raccogliere il più possibile delle sensazioni che hanno attraversato l'organismo. O ancora, il riassaporare rimuginando lungo la propria esperienza di vita, fino a far sì che la scrittura altro non sia che un ricopiare dalla propria memoria ridiventata sensazione il libro, attività che nei ricordi è più semplicemente descritta come un'ammassare impressioni. E non in ultimo, il metodo sincopativo e l'estrema abbreviazione dello stile, mutato qui nei ricordi in una più generica lucidità di stile. Insomma, qualcosa di più del semplice proposito di aderire al metodo di Henri Brouillard, fino anche nel disegnare le piantine delle scene principali, proposito che infatti Tomasi cassa nella rilettura dei ricordi. Ecco, scusate, una delle biffature a cui ho fatto cenno. Ma quello a cui lo scrittore vuole giungere è in definitiva definire meglio, chiarire meglio la natura dei ricordi, in particolare di quelli infantili, che sono per lui impressioni vive, prive di qualsiasi innesso cronologico, e possono essere resi solo grazie a una ben precisa tecnica narrativa, ovvero, cito, raggruppando per argomenti e provandosi a dare un'impressione globale nello spazio, piuttosto che nella successione temporale. Nell'autobiografia l'ordine cronologico lo insegna Gwisdorf e illusorio. Narrando, insomma, gli ambienti, e sempre Tomasi, senza cercare a priori di seguire lo sviluppo dei fatti. Sulla scorta di Stendhal si muove dunque il Tomasi autobiografo, facendo sua solo parzialmente la lezione del francese, così come accadrà, e vi è tornato ancora recentemente a Donnarumma, anche nel Gattopardo. Quando Tomasi veste i panni dei critico letterario, gioca a farsi orologiaio e smonta il meccanismo del romanzo stendagliano, perché il francese non sa scrivere novelle che lo obbligherebbero a rispettare un piano prestabilito, al contrario di lui che, come abbiamo sentito, definisce il romanzo fatto di racconti e di novelle. Ma sa bene che studiare il meccanismo dell'orologio non significa saperlo far funzionare con un nostro tempo da far segnare alle lancette. Come dire che un conto è ragionare criticamente su un'opera letteraria, e di Benedetto ha sottolineato che Tomasi possedeva innate qualità critiche. Un altro è farsi autore improprio. L'essere orologiaio tuttavia lo aiuta, come abbiamo visto, a isolare alcune caratteristiche della scrittura stendagliana che gli servono ora per scrivere di sé. Indagare lo stendal padrone del tempo, capace di imprimere la narrazione, grazie a impercettibili colpi che colpiscono il preconscio, sono parole ovviamente di Tomasi, rallentamenti e accelerazioni, e indagare lo standal regista dello spazio che anziché descrivere suggerisce al lettore tramite una semplice presentazione preventiva agli sfondi dell'azione, facendo appello alla di lui facoltà immaginativa, aiuta Tomasi sia a ripensare il romanzo iniziato, sia a interrogarsi sull'autobiografia, piuttosto che non, come è stato detto, a ricavare una sorta di prontuario narratologico. Nei ricordi in particolare, la lezione dello standal romanziere, anche al di là del livre Eulard, non solo è accolta parzialmente, ma viene declinata autonomamente. Si pensa alle descrizioni ossessivamente minute, condotte più sull'esempio di Balzac, che Tomasi cita anche agli lettura della maturità, un autore che si deve leggere a 50 anni passati, lo definisce in una lettera alla moglie, uno scrittore che non solo non lo disgusta, come accade a Don Fabrizio, ma dal quale Tomasi apprende, lo scrive sempre Alissi nella primavera del 50, a creare le plein de maison et l'immobilier, per poi collocarvi i personaggi. L'effetto è stupefacente, conclude. Parimenti, lo scrivere di sé per argomenti, scelta che legittima lo scardinarsi dell'intreccio, riconduce sia Stendhal, che, lo si legge nelle lezioni, mancava della facoltà di saper costruire un intreccio, ma pure a Virginia Woolf, di cui Tomasi scrive sempre nei primi mesi del 55. Ma è soprattutto nel trattamento del tempo che i ricordi divergono dalla lezione standaliana. Nella scrittura autobiografica di Tomasi, infatti, il tempo è scandito secondo un calendario ben preciso, al punto che i due ricordi contenuti nel capitolo che porta a questo titolo hanno date che coincidono con avvenimenti storici. L'assassinio di Re Umberto a Monza, 30 luglio 1900, e il terremoto di Messina, 28 dicembre 1908. Avvenimenti che appartengono alla memoria collettiva e collaborano, non so quanto consapevolmente, a fare di questi ricordi qualcosa che i lettori possono condividere con l'autobiografo, un modo diverso di attivare la facoltà immaginativa del lettore di cui si diceva prima. Tuttavia, l'essere individuabili cronologicamente non comporta di necessità rispettare in ogni punto la cronologia della scrittura. Infatti, a conclusione del secondo ricordo, Tomasi ne inserisce un terzo che si colloca nel tempo compreso fra l'assassinio del Re e il terremoto. L'incontro è una mattina di sole accecante tra il giovane Giuseppe e una vecchissima signora assai curve con naso ad unco, Eugenia, ex imperatrice dei francesi. Ma soprattutto, quello che colpisce in questi ricordi è la sensazione che il tempo, quello dei granellini che si affollano e sfilano dinnanzi allo stretto rifizio di un orologio a sabbia, per usare un'immagine del gatto pardo, appaia come sospeso, quasi che Tomasi fosse in grado di sottrarci la nostra percezione adulta dello scorre dei minuti e farci tornare bambini, obbligandoci a vedere ciò che accade attraverso gli occhi di un fanciullo di tre anni e mezzo. Vedo ancora l'effetto che a esse le parole che i genitori si stanno scambiando producono. È un passo del primo ricordo. E non si tratta solo della spazzola che la madre lascia cadere, ma di qualcosa di più profondo che coglie il bambino e si impossessa dell'ambiente in cui la scena si sta svolgendo. Tutta la stanza si trovò costernata, scrive con gusto barocco Tomasi. Difficile trovare parole che meglio diano conto della capacità di questo scrittore di antropomorfizzare luoghi e oggetti, se non forse guardando alle ultime pagine del romanzo la famosa camera solitaria di Concetta. Dunque, la stanza che fino a un attimo prima era invasa dalla grande luce di estate che entrava dalle finestre con i battenti aperti, ma le persiane chiuse, particolare e importante, come vedremo, appare dopo l'arrivo della notizia dell'attentato attraversata da striature di luce di ombra, perché così lo scrittore rende lo sgomento in cui cose e persone sono caduti. I luoghi sembrano sempre più essere per Tomasi la strada per raccontare di sé. In tal direzione orienta il capitoletto che apre la parte delicata all'infanzia, quella che condurrà sino alla frequentazione del liceo, la prima delle tre parti in cui Tomasi pensa di suddividere queste memorie a definizione sua, a cui faranno seguito la giovinezza fino al 1925, la maturità sino ad oggi, date in cui, scrive Tomasi, considero che cominci la vecchiaia. Insomma, verrebbe da concludere, siamo di fronte a un vero progetto autobiografico alfierianamente costruito, se non fosse che nel rileggere questi appunti Tomasi biffa l'intero passaggio. Forse, come ha suggerito Lanza, per rendere il testo più fluido, meno programmatico, o forse perché la stesura degli appunti, nella stesura degli appunti, egli avverte qualcosa che lo riporta al romanzo. Un'ipotesi possiamo formularla leggendo il capitolo che segue, intitolato per l'appunto I luoghi, e che si apre con un'incondizionata dichiarazione d'amore di Tomasi per la casa che l'ha visto bambino. Innanzitutto la nostra casa l'amavo con un abbandono assoluto e l'amo ancora adesso, quando essa da 12 anni non è più che un ricordo. Una casa e non un tetto, che serve unicamente a ripararsi dalla pioggia e dal sole, e nemmeno un palazzo, etichetta spesa per le dimore del gatto pardo, ma che qui evoca nella mente dello scrittore immagini poco seducenti di falasteri di quindici piani. Una casa, nel manoscritto scritto in stampatello, nel senso arcaico e venerabile della parola e che tale rimane anche quando non esiste più. Una casa che non ha nulla da spartire con quella che lo scrittore abita nel presente, che non gli piace affatto, perché veramente essa non è la sua casa. Altro passaggio biffato, ma credo per ragioni personali. Non ci sono dubbi, per Tomasi la casa è a tutti gli effetti un doppione microcosmico del corpo materiale come del corpo mentale, per usare le parole di Durand, ed è tema letterario, è proprio lui lamentarne la scassezza, insomma, l'assenza, anzi, nella letteratura francese in quella italiana. E lo è anche nel gatto pardo. Noi teniamo le nostre case al nostro mobiglio più che a qualsiasi altra cosa, dice Tancredi ed Angelica. E Don Fabrizio non riesce nemmeno più a pensare a donna fugata, la sua casa, quando nel momento dell'estremo distacco non pare più appartenergli, come di lì a breve, non gli apparterrà più il suo corpo. La vastità è la prima caratteristica della dimora descritta nei ricordi, una vastità oggettiva e non frutto dello sguardo infantile. Una casa circondata da un cielo violentemente azzurro illuminata dal sole che gettava luci miti. Un luogo magico di gentili misteri, di sorprese innovate e tenere che il piccolo Giuseppe percorreva correndo da una stanza all'altra in compagnia dell'amato Tom con la lingua rosa a penzoloni fuori dal caro muso nero. Tutto mi piace in essa, scrive Tommasi, alternando l'imperfetto impiegato per narrare le sue scorribande da bambino con il presente del suo ricordo di adulto. Ecco un esempio di quell'alternanza di voci che l'avevano colpito nel brular. Lasciando fluire pagine in cui quella di Mora torna a prendere corpo grazie a minutissime descrizioni della facciata, dei saloni, degli arredi, descrizioni poi cassate da Tommasi forse per timore di minare la tenuta del testo ma che pur avevano svolto in prima battuta la funzione di aiutare l'emergere del ricordo e di arginare la piena emotiva che quel ricordo aveva destato. Ma un passaggio lo scrittore non cassa, un passaggio che ci aiuta a cogliere la sua poetica dei ricordi. Qui cominciava per me la magia delle luci scrive Tommasi ovvero nella fuga dei salotti che si stendevano l'uno dopo l'altro lungo la facciata. Luci che in una città solo intenso come Palermo sono succose e variate sono parole sue e penetrano nello spazio privato della dimora talvolta diluite da tendaggi di seta tra l'altro esaltate dal loro battere su qualche toratura di cornicione o da qualche damasco giallo di seggiolone che le rifletteva o ancora schermate dalle persiane accostate che lasciano intuire la potenza luminosa che era fuori consentendo alle volte solo a un raggio di penetrare dritto e ben delineato. Un vero sortilegio di illuminazioni e di colori che mi ha incatenato l'anima per sempre conclude Tomasi in una delle pagine più belle più prustiane di tutto Lampedusa come ha scritto Samonà ed è proprio grazie a un'altra casa sempre descritta nei ricordi di infanzia le altre case si intitola il capitolo successivo quella preferita di Santa Margherita che ispirerà al palazzo di Donna Fugata dimora a cui si giunge dopo un estenuante viaggio pressi dal sole di piombo a offrire a Tomasi una nuova occasione per scrivere di sé attraverso i ricordi non so se fino a qui sono riuscita a dare l'idea che era un ragazzo a cui piaceva la solitudine cui piaceva di più stare con le cose che con le persone scrive Tomasi richiamandola a nostra memoria di lettori del gattopardo all'immagine di Don Fabrizio che come si legge in una missiva di cui dirò ancora è sempre stato solo ed inoltre in questo simile a colui che l'ha creato è sempre stato profondamente legato alle povere cose care che gli fanno dimenticare addirittura di essere in agonia nuovamente nei ricordi Tomasi si ritrae mentre percorre la vastità ornata della casa di Santa Margherita una vastità fiabesca che la dimora precedente non possedeva un bosco incantato ma senza draghi nascosti uno schigno delle fate circondate da un giardino che condivide molto con quelli del gattopardo giardini di Donna Fugata naturalmente ma anche quello del palazzo di Palermo come si intuisce quando Tomasi osserva che il giardino di Santa Margherita è come lo sono tanti giardini in Sicilia che sembrano fatti più per il godimento del naso che dell'occhio era un giardino per ciechi la vista era costantemente offesa ma l'odorato potrebbe attrarre da esso un piacere forte benché non delicato si legge nel gattopardo Santa Margherita è il luogo dell'avventura un labirinto di appartamenti ignoti un mondo popolato da molti singoli oggetti che vengono puntualmente descritti ma anche luogo di vita sociale e di gite come quelle fatte a sciacca dal piccolo Giuseppe con i genitori per far colazione del Bertolino di questa gita Tomasi dice di non aver conservato un ricordo a quanto vago o meglio specifica la parola vago non è esatta perché sarebbe meglio dire difficile ed esprime nella misura in cui l'impressione visuale era rimasta vivacissima nella mente ma allora essa non si era collegata con nessuna parola Giuseppe ha in quel momento 5-6 anni ma di quella giornata nulla gli è rimasto se non un'immagine fotografica completa e precisa poco dopo parla di fotografia mentale ricavata dall'archivio della sua memoria espressione già usata per Stendhal nuovamente il lettore ha l'impressione che il tempo si arresti in una sorta di ferma immagine che lo obbliga a coincidere interamente con quella visione ed è così che ancora una volta in una sorta di dialogo fra quello che il bambino di allora aveva visto e quello che l'adulto che torna in quel luogo vede e confronta col ricordo che Tomasi giunge a meglio definire poetica la poetica dei ricordi di luce come sempre i miei ricordi lontani sono in special modo ricordi di luce scrive Tomasi a Sciacca vedo un mare azzurrissimo quasi nero che scintilla furiosamente sotto il sole meridiano uno di quei cieli della piena estate siciliana nebbiosi di AFA una ringhiera che limita uno strapiombo sul mare una specie di chiosco nel quale vi è un caffè a sinistra di chi guarda il mare i ricordi di luce si imprimono sulle lastre fotografiche del recupero memoriale le fotografie quelle reali intendo collaborano a generare pseudo ricordi come li definisce Tomasi ricordi di copertura li definirebbe Freud che si insinuano nelle pagine dell'autobiografo pensa quando lo scrittore ritrova una fotografia che lo ritrae bambino con la cuginetta durante la colazione attorno a un tavolino di ferro nel giardino può benissimo darsi che io scambio il ricordo attuale della fotografia con un arcaico dell'infanzia che quanto mai possibile ed anzi frequente commenta i ricordi di luce sono i soli che il Tomasi autobiografo sa di poter recuperare ma parimenti è cosciente di quanto difficile sia intessere la trama delle proprie memorie attraverso essi anche quando grazie ai luoghi e alle case questi ricordi assumono consistenza sono solo tre infatti letterati che Tomasi nell'introduzione aveva indicato esser stati in grado di dar vita al capolavoro autobiografico rousseau standale proust e non sono nomi che a quest'altezza stupiscono certo non tutti possono aspirare a questo ma tutti dovrebbero come un dovere imposto dallo stato tentare di preservare qualcosa della loro vita passata qualcosa che altrimenti andrebbe rimediabilmente perduto scegliendo di tenere un diario scrive Tomasi o di scrivere a una certa età le proprie memorie Tomasi forse non è un diarista Gilmour parla di un diario del 55 Gioacchino ne aggiunge uno nel 56 ma non rubricherei ricordi di infanzia sotto questa etichetta ma immagina di poter essere un autobiografo spendendosi pure nel giustificare la necessità di questo genere di scrittura non solo come bene individuale ma come bene collettivo perché se tutti seguissero questa indicazione il materiale che si sarebbe accumulato dopo due o tre generazioni avrebbe un valore inestimabile e molti problemi psicologici e storici che assinano l'umanità sarebbero risolti non so fino a che punto questo possa essere vero e non meno fino a che punto Tomasi ne sia veramente persuaso quello di cui però è convinto è che il romanzo non può non tener conto di questo genere di scrittura e così quando subito dopo menziono un romanziere che ha destato uno straordinario interesse e Di Faux a venirgli alla mente colui che ha il gusto di presentare le proprie opere come relazioni di fatti reali soffermandosi sul dettaglio un minuto lo straordinario interesse che destino i romanzi di Di Faux consiste nel fatto che sono quasi dei diari geniali benché apocrifi pensate un po' cosa sarebbe se fossero genuini si chiede e ci chiede lo scrittore ma allora e vado a concludere quando Tomasi terminata la prima parte del Cattopardo dove già è presente quello che abbiamo detto filtrato attraverso le maglie della scrittura narrativa si arresta per scrivere di sé non lo fa certo perché il romanzo si è sfuggito di mano o perché tutto si è esaurito in quella perfetta parte prima bensì perché avverte l'esigenza di conciliare la prepotente istanza di scrivere di sé con quella di scrivere un romanzo che non vuole essere solo autobiografico in tal senso ritengo debba essere interpretata l'osservazione di Orlando che i ricordi di infanzi interpresi nel giugno del 55 stavano per sfociare nel Gattopardo a spiegazione di una sempre maggiore umbratilità di Tomasi motivata dall'urgenza di essere finalmente scrittore improprio così nell'atto di arrestarsi e guardare indietro la propria vita trascorsa Tomasi scrive di getto i primi ricordi che sono fin da subito ricordi di luce poi tenta di chiarire a sé stesso in che modo intende costruire le sue memorie ovvero attraverso l'emergere di momenti del passato illuminati da un raggio di luce magari anche esiguo per prendere a prestito le parole di Don Fabrizio spesi in altro contesto ma che diventa metafora della vita tutta racchiusa fra due tenebre e così pagina dopo pagina Tomasi si ritrova a scrivere nuovamente quel romanzo che aveva messo da parte ma qualcosa resti imprigionato fra i foglietti di questo blocco d'appunti qualcosa che solo in parte lo scrittore riesce a declinare nel Gattopardo non si tratta certo di andare a confrontare i testi per certificare il passaggio di frammenti narrativi dall'uno all'altro quanto di dare ascolto lo stesso autore quando il 30 maggio del 57 in una lettera che suona per molte ragioni come un testamento chiede a Enrico Merlo di leggere con attenzione il Gattopardo dove spesso le cose sono solo accennate il fastidio per l'esplicito di cui discorreranno riconducendo la Stendhal perché è un romanzo che rivela la profonda compartecipazione dello scrittore proprio in nome di quella parte che di sé lì si trova forse perché come ha testimoniato Lanza Tomasi non parlava volentieri di se stesso ancora una volta come l'amato Stendhal o forse perché come questi era convinto che unicamente l'infanzia potesse essere oggetto di un racconto utobiografico o ancora perché come scrive lo stesso Tomasi è molto difficile praticare la vera scrittura utobiografica anche per coloro che sono stati grandi scrittori e ricompare qui ancora una volta al nome di Rousseau accompagnato fra gli altri da quello di Alfieri e di Cellini in quanto tutti loro hanno scritto opere dove si presentano travestiti da sé medesimi intenti a scusarsi a glorificarsi a magari infamarsi come Rousseau per l'appunto ma quello insomma che i grandi autobiografi sono stati capaci di fare non sono stati capaci di fare è raccontare l'uomo il semplice uomo qualsiasi guardato senza esitazione e senza disprezzo e Tomasi forse sa che alla fine nemmeno lui ne sarebbe stato capace ogni artista è creatore di uomini non fosse altro che di se stesso scrive Tomasi nelle pagine dedicate a Dickens e forse proprio qui la risposta che stavamo cercando grazie 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 a tutti